Il Signore si ha con voi, come ha scritto il mondo, dal Padreo secondo Marco, con la mia testa, Signore. In quel tempo che i scegliati avrebbero potuto dedicare a prendere dei panni e non avrebbero con sé sulla parte che ho insonato. Allora che sono di ammolito dicendo, padre del teatro, guardatevi dal giro del servizio e dal giro del teatro che lo vede, a cui mi chiesce un giro a noi, perché non avrebbero male, non avrebbero male, però avrebbero conto male. Si accorgono invece e disse loro, perché mi chiedete, perché non avrebbero male, non capite ancora e non comprendete. Avete il cuore e l'unico? Avete l'occhio e non vedete? Avete l'occhio e non vedete? E non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque panni per i cinque milioni, quante pesce di colme di pesce avete ricordato di ieri? E quando ho spezzato i cinque panni per i cinque milioni, quante pesce di colme di pesce di colme di pesce di colme di pesce? E quando ho spezzato i cinque milioni, quante pesce di colme di 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 pesce di Grazie.